Domani sul Riformista troverete questa notizia, ne vedrete, molto interessante. Abbiamo scoperto che la Casaleggio Associati ha ricevuto per molti anni moltissimi soldi da Philip Morris attraverso le lobby del tabacco, le famose lobby del tabacco. Voi sapete che la Casaleggio è la casa madre dei 5 Stelle, è il luogo dove sono nati i 5 Stelle, è il tempio del grillismo ed è anche la cassa dei 5 Stelle del grillismo. E sembra che questa questione del conflitto di interessi, che è sempre stata al centro, mi sembra, della politica e delle battaglie dei grillini, fosse un bel problemino dentro Casalora. Noi abbiamo trovato pagamenti per 2 milioni, 2 milioni di euro alla Casaleggio da parte da Philip Morris e nello stesso periodo abbiamo scoperto che il Parlamento, con l'aiuto dei 5 Stelle, col voto dei 5 Stelle e soprattutto dal momento in cui i 5 Stelle sono andati al governo, ha abbassato le tasse sull'acquisto di sigarette che servono a far funzionare le sigarette elettroniche. Le ha abbassate di tanto, facendo un piacere enorme alla Philip Morris. Parliamo di decine, di centinaia di milioni, probabilmente possiamo anche parlare di miliardi. Da una parte, diciamo così, i 5 Stelle si impegnavano per abbassare le tasse alla Philip Morris, dall'altro la Casaleggio, non sappiamo bene in quale forma, probabilmente di consulenza, della Philip Morris aveva bisogno di consulenza da parte di Casaleggio e pagava. Pagava costantemente, tutti i mesi, decine di migliaia di euro fino a 2 milioni. Cosa volete che vi dica? Che l'onestà è andata in fumo, scusate la battuta un po' troppo facile, ma è proprio l'onestà che è andata in fumo. Per anni ci hanno spiegato che l'unica cosa importante in politica era la limpidezza, l'onestà, la trasparenza, ma qui altro che trasparenza, qui c'è una coltre di fumo che non finisce più, c'erano soldi che arrivavano dalle lobby, c'erano conflitti di interessi, c'era anche finanziamenti legio dei partiti. Ma noi non lo sappiamo, perché la Casaleggio in teoria non è un partito, ma proprio in questi giorni, leggendo il fatto, abbiamo scoperto che chiunque sia in buona fede sa che la Open, che era una fondazione che faceva capo a Renzi, in realtà sì, era una fondazione, ma poi di fatto era un partito, e infatti sono partiti addirittura gli avvisi di garanzia, perché i finanziamenti a Open, secondo i magistrati di Firenze, sono finanziamenti a un partito. Capite bene che se i finanziamenti a Open sono un finanziamento a un partito, come sostiene, con grande squillo di trombe travaglio, beh, stavolta immagino che salterà sulla sedia, dirà, ma quindi qui c'è corruzione, e qui sono stati finanziati i 5 Stelle in maniera illegale, senza che nessuno lo sapesse. domani facciamo questo titolo, 5 Stellopoli, e tutta la storia dell'onestà è finita, adesso vediamo se hanno qualche idea, oppure se finiva tutto in questa fuffa, in questo imbroglio, ci hanno imbrogliato per mesi e anni. Noi onesti, noi contro il conflitto interesse, noi dobbiamo abbattere Berlusconi perché ha c'è le televisioni, e prendevano i soldi dalle lobby del tabacco, Oh, ma porca miseria!